buongiorno buongiorno da karim di nuovo e buona domenica allora come state tutto bene speriamo di sì grazie di tutti i vostri commenti e grazie della fiducia soprattutto io leggo sempre i vostri commenti sempre tanti veramente sono contento veramente continuati così e che mi piace a leggere i vostri commenti e grazie ancora di tutti i commenti che mi fate grazie mille allora allora buona domenica ok e le previsioni di million day million day ok aspettate che faccio vedere anche una schedina e quali con la schedina trovata l'ho trovata allora sappiamo regolarsi eccoli con la pena bellissimo allora la schedina million day tanti che non sanno compilare ok per favore non mi fatti domande ogni volta come si compila come si fa andate in tabaccheria e te le fai spiegare tanto si mettono numeri qua ok stiamo parlando di numeri normali si è fatti cinque numeri e metti e tanti che non giocano l'extra eccoli qua è scritto l'extra quelli che non ho giocato l'extra l'altro ieri noi ieri l'altro ieri non hanno vinto ok 0 non hanno vinto chi ha giocato l'extra eccoli qua perché adesso ci sono nuove schedine è scritto l'extra perché tanti ne hanno ancora quelle vecchie ok qua mettete la crocetta sull'extra e così l'ho giocata da due euro metti di cinque numeri ok 1 2 3 4 5 e poi mettete l'extra e viene costare 5 euro e poi se volete a giocare tutti tutti insieme sono otto numeri come in solito io do otto numeri sono cinque più cinque però ci sono due numeri doppiati due numeri doppiati ok in totale sono otto mettiti otto numeri e mettiti allora se la fatti normale e viene a costare 5 euro sia aggiungiti l'extra ok l'extra e mettete il sistema ridotto l'extra e sistema ridotto sempre allora otto numeri e poi mettiti qua la crocetta ridotto sistema ridotto ne viene a costare 5 euro ok se aggiungite l'extra viene a costare 10 euro dipende di voi oppure fate solo normale cinque numeri con l'extra cinque numeri con l'extra viene a costare 2 euro 2 euro e 2 euro 4 euro in tutto ok vedete voi come volete che dipende dalla vostra tasca come come sentite voi ok allora i numeri sono questi qui da giocare sono bellissimi sono studiate stessa tecnica che ho fatto ultimamente ha avuto belli risultati veramente belle bella tecnica questa come veramente una bellissima l'ho fatto a loro se lo sto facendo anche con sopra l'allotto ieri sera abbiamo fatto due l'avete visto che abbiamo fatto due sul super nell'otto ma vengono 5 euro però almeno qualcosa l'abbiamo preso però sopra l'allotto deve ancora studiarlo di più perché non ho dato non ho dato tempo di studiare sopra l'allotto non ce l'ho e poi lotto e 10 all'otto serale abbiamo chiuso che vuole continuare ancora col 33 e 66 continua oppure io da domani pomeriggio mi trovate 9 previsioni 9 previsioni del lotto e 10 all'otto serale ok e poi quelle del lotto mio martedì ultimo colpo quella del giornale va bene allora i numeri sono da giocare 22 36 33 e 39 e 40 e poi avevamo il 33 36 38 42 e 40 46 avete visto che c'è il 33 due volte e 36 due volte ok avete capito come funziona questi sono sono 10 5 più 5 però quando viene due numeri in più diventano tutti in totale sono 8 numeri chi vuole giocare sistema ridotto va bene allora buona giornata e buona domenica buona fortuna e scriviti sempre i commenti che non hanno ancora scritto si iscriviti sempre il canale youtube e attivati sempre il campanellino così arriva la notifica quando mando le previsioni ok ciao ciao da Karim buongiorno buongiorno da Karim di nuovo e buona domenica allora come state tutto bene speriamo di sì grazie di tutti i vostri commenti e grazie di la fiducia soprattutto io leggo sempre i vostri commenti sempre i tanti veramente sono contento veramente continuate così e che mi piace a leggere i vostri commenti e grazie ancora di tutti i commenti che mi fate grazie mille allora allora buona domenica ok e le previsioni di million day million day ok aspettate che vi faccio vedere anche una schedina che ce l'ho qua speriamo se la trovo eccoli qua una schedina trovata l'ho trovata allora un attimo prendo anche la penna così sappiamo regolarsi eccoli qua la penna bellissimo allora la schedina million day tanti che non sanno compilare ok per favore non mi fatti domande ogni volta come si compila come si fa andate in tabaccheria e te le fai spiegare tanto si mettono numeri qua ok stiamo parlando di numeri normali si fatti cinque numeri e metti tanti che non giocano l'extra eccoli qua è scritto l'extra quelli che non ho giocato l'extra l'altro ieri non ieri l'altro ieri non hanno vinto ok 0 o non hanno vinto chi ha giocato l'extra eccoli qua perché adesso ci sono nuove schedine è scritto l'extra perché tanti ne hanno ancora quelle vecchie ok qua mettete la croccetta sull'extra e così l'ho giocata da due euro mettete cinque numeri ok uno due tre quattro cinque e poi mettete l'extra e viene costare cinque euro e poi se volete a giocare tutti insieme sono otto numeri come in solito io do otto numeri sono 5 più 5 però ci sono due numeri doppiati due numeri doppiati ok in totale sono otto mettiti otto numeri e mettiti allora se l'ha fatto il normale e viene a costare cinque euro se aggiungite l'extra ok l'extra e mettete il sistema ridotto extra e sistema ridotto sempre allora otto numeri e poi mettiti qua la croccetta ridotto sistema ridotto e viene a costare cinque euro ok se aggiungite l'extra viene a costare dieci euro dipende di voi oppure fate solo normale cinque numeri con l'extra cinque numeri con l'extra viene a costare due euro due euro e due euro quattro euro in tutto ok vedete voi come volete che dipendete dalla vostra tasca come come sentite voi ok allora i numeri sono questi qui da giocare sono bellissimi sono studiate stessa tecnica che ho fatto ultimamente ho avuto belli risultati veramente bel be bella tecnica questa qua veramente una bellissima l'ho fatto se lo sto facendo anche con sopra l'allotto ieri sera abbiamo fatto due l'avete visto che abbiamo fatto due sul sopra l'allotto ma ben sono cinque euro però almeno qualcosa l'abbiamo preso però sopra l'allotto deve ancora studiarlo di più perché non ho dato non ho dato tempo di studiare sopra l'allotto non ce l'ho e poi l'allotto il 10 all'otto serale abbiamo chiuso chi vuole continuare ancora col 33 e 66 continua oppure io da domani pomeriggio mi trovati le nuove previsioni dell'otto e 10 all'otto serale ok e poi quelle del lotto mio martedì ultimo colpo quelle del giornale va bene allora i numeri sono da giocare 22 36 33 e 39 e 40 e poi abbiamo il 33 36 38 42 e 46 avete visto che c'è il 33 due volte e 36 due volte ok avete capito come funziona questi sono sono dieci 5 più 5 però quando viene due due numeri in più diventano tutti in totale sono otto numeri chi vuole a giocare sistema ridotto va bene allora buona giornata e buona domenica buona fortuna e scriviti sempre commenti che non ancora scritto si iscrivevi in canale youtube e mi attivati sempre il campanellino così le arriva la notifica quando faccio quando mando le le previsioni ok ciao ciao da carino